Martedì 2 agosto 2016, ore 10.40. È morto a 48 anni Davide Ortolini, il famoso critico enogastronomico e volto noto di una mattina. L'uomo è morto ieri sera struncato da un malore mentre stava giocando a tennis. Ortolini si trovava al centro tecnico federale del Braulopavia e inoltre Poppavese. Durante la lezione con un maestro si è accasciato a terra. Immediati soccorsi, subito si sono resi conto che si trattava di un attacco cardiaco. Sul posto è intervenuto un elisoccorso del 118 che ha trasportato Ortolini al policlinico San Matteo di Bovia. Nonostante le cure in terapia intensiva non c'è stato nulla da fare. Pochi minuti dopo la sua scomparsa sulla pagina Facebook si è riempita di messaggi di lotto e di cordoglio. Ai fanno ne è sfuggito una strana coincidenza sul profilo Twitter e il sommelier qualche giorno fa aveva postato una fotografia che lo ritroveva in compagnia di Marta Marzotto. Recentemente è scomparsa. Ciao Marta scrive Ortolini. È stato un piacere conoscerti. Soltanto tre giorni che dopo sarebbe morto anche lui.